Lo sport come strumento per favorire l'integrazione e superare ogni forma di barriera, da quelle culturali fino a quelle rappresentate dal disagio psichico. Il calcio in particolare è il veicolo scelto per far conoscere le problematiche legate alla salute mentale. Questa è la ricetta della seconda edizione del Campionato delle Regioni di Calcio 8, destinato a soggetti affetti da disagio psichico ed organizzato dall'AMPIS, l'Associazione Nazionale delle Poli Sportive per l'Integrazione Sociale, in collaborazione con il Comune di Urbino, che ha inoltre messo a disposizione il centro sportivo Varea, dove si svolgeranno le partite dal 28 al 30 settembre. L'evento, che è il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche, è stato presentato presso la sede dell'Assemblea Legislativa. Il Campionato di Calcio 8 consiste intanto per la partecipazione di otto realtà delle Regioni italiane, per promuovere la salute mentale. Questa iniziativa viene fatta adesso 28, 29 e 30, anticipando quello che poi sarà la settimana della salute mentale, che sarà ad ottobre. Diciamo che questo è fondamentale per creare le condizioni che si possa conoscere il problema della salute mentale attraverso lo sport. L'Anfis che ci ha dato la possibilità di organizzare, attraverso l'associazione, questo bellissimo evento, che è la seconda volta che si svolge in Italia. Grazie comunque al Comune di Urbino che si è dimostrato sensibile nel riconoscere questo evento, una manifestazione importante, quindi un evento che comunque speriamo di coinvolgere il più gente possibile, perché abbiamo la possibilità di far conoscere a tutto il territorio questa disabilità e l'integrazione sociale. L'associazione Alfa partecipa a questa manifestazione, provovendo lo sport come mezzo di integrazione tra chi parteciperà attivamente a questo evento, tra tutte le associazioni, tutti i ragazzi che parteciperanno come giocatori a queste giornate, e la popolazione del territorio che nell'occasione avranno maniera di integrarsi con l'associazione e con tutti coloro che parteciperanno a queste giornate. Nella città ducale giungeranno per l'occasione circa 300 partecipanti alla Kermesse, dalle otto regioni che hanno confermato la loro presenza, Umbria, Lazio, Friuli, Liguria, Lombardia, Campania, Puglia, vincitrice della prima edizione tenutasi a Palinuro e, come ovvio, la regione Marche.